ok ok ho spuntato tutto allora siamo qui con il Presidente, Cristiano Piccillo e il mio esposito Giovanni Giorgio Variale Luigi Laferola Marcello Manzi che vuole questo? sono passati agli ottavi di finale 2-1 contro una bella squadra dei Vecchi Spugne, una partita molto tesa, equilibrata migliore in campo, è stato nominato De Feola abbiamo intervistato prima, ma secondo noi giudici sportivi della Summer Cup c'è anche qualcun altro che potrebbe essere nominato abbiamo qua tutta una squadra di ACKP che vogliono dare un coro al torneo dite qualcosa vai vinceremo vinceremo ciao ragazzi